buongiorno a tutti gli ascoltatori di bassano generation ben ritrovati sempre qui da bassano de grappa cari amici ascoltatori sono mauro qui con me c'è alberto alessi ciao ciao a tutti è uno scrittore venuto a raccontarci il suo libro la sua vita da scrittore io sono curioso spero che lo siate anche voi curiosi di scoprire chi è di che cosa si occupa e di che cosa parlano i suoi libri quindi dai parlaci un po di te beh io sono ragazzo normale un ragazzo tranquillo una vita comune come tutti ecco io da se penso da sempre insomma dopo magari in adolescenza è venuta fuori questa mia vene artistica diciamo in generale in particolare con con la musica e con la scrittura ecco io sono in un gruppo che si chiama l'amor violento e a oggi ho scritto e pubblicato due libri che in realtà sono tre romanzi perché il primo due novelle rock and roll sono due romanzi riuniti in un unico volume per vari motivi perché le tematiche di fondo erano le stesse e oggi sono qui a presentare il mio secondo libro che si chiama in basso agli inferi che è uscito a luglio del 2017 quindi oltre a scrivere sei anche musicista sì sì ecco a me queste definizioni tipo musicista scrittore non che stiano antipatiche però non è che mi interessa tanto ecco anche perché secondo me tutti dovrebbero tirar fuori la vena artistica no la creatività che diciamo che è più bello dire che ti occupi anche di musica sì sì ecco possiamo dire così in musica di scrittura ok ma come ti è nata l'idea di scrivere un libro per me io la sento come una necessità quella di esprimermi di esprimere le mie idee di far sapere alla gente cosa penso del mondo della vita e di condividere un po quello che è il mio punto di vista e cercare di sempre di far passare un messaggio positivo con con le mie canzoni con la mia musica o con i miei libri ecco ma hai sempre avuto la passione per scrivere film da piccolo oppure beh in realtà da più grande beh ho iniziato al liceo con qualche episodio scrivo qualche racconto così e dopo ho detto boh cerco di di cimentarmi con qualcosa di più di più impegnativo ovvero con la scrittura di alcuni romanzi e lì è cominciato verso i 20 21 anni e poi non mi sono più fermato e spero di non fermarmi più ci ascoltiamo una canzone e questa l'hai scelta tu loro sono i tre allegri ragazzi morti dal loro primo album e dai vuoi lanciarla tu alberto questa canzone certo dal primo album che si chiama piccolo intervento a vivo tre allegri ragazzi morti mondo naif the bassano generation cari amici ascoltatori siamo qui sempre da bassano del grappa qui come vi ricordo c'è alberto alessi poi c'è anche riccardo zambon che va lui anche il mio saluto e amici ascoltatori stiamo parlando del suo libro perché come dicevamo prima lui è uno scrittore è già scritto due libri e li ha scritti per il piacere proprio di scrivere il neanche diciamo proprio il bisogno di esprimersi il bisogno di esprimere i propri pensieri il proprio vissuto di che cosa parla il tuo libro in basso agli inferi sì e beh a molteplici chiavi di lettura ovviamente la trama è anche semplice nel senso che beh allora si può dire che è ambientato nel futuro o comunque che parla di una realtà alternativa dove la situazione sociale politica economica del mondo intero è leggermente diversa da come adesso ovvero sono accentuate certe certe criticità se non altro nei continenti fuori dall'europa mentre l'europa per come l'ho immaginato io per come ho scritto questo libro l'europa vive appunto in pace vive secondo i principi di uguaglianza libertà fratellanza e ha realizzato quelli che sono i principi anarchici i principi libertari di questa dottrina che ha messo le sue radici ormai da due secoli e che ancora non trova spazio e viene stroncata in ogni dove insomma perché la libertà fa paura ecco detta in modo proprio drastico e per cui in questo libro la trama è che i personaggi si ritrovano in giro per il mondo e devono per vari motivi e devono far ritorno appunto in Europa e passano attraverso i continenti di Asia, Africa, America e poi ritornano in Europa e per cui questo è un pretesto per descrivere un po' com'è la situazione all'esterno dell'Europa e poi l'ultimo capitolo anche come realmente si vive in Europa e che è un po' come si potrebbe vivere se si realizzassero certi questi principi insomma se si fosse un po' meno attaccati magari al denaro al mito dell'apparenza, alle cose superflue che oggi ci comandano ma quindi diciamo che il tuo libro parla anche di situazioni socio-politiche e anche di questo attraverso i personaggi che viaggiano per il mondo sì, ti dico che parli di politica non è in senso stretto, non è proprio così più che altro io lo definisco, l'ho già definito altre volte, un libro politico per come si intendeva la politica negli anni 70, ovvero c'era il motto che diceva tutto è politico, nel senso per come ti vesti, per quello che fai, per quello che mangi come vive la gente, il vivere proprio delle persone sì, anche le cose minime possono fare la differenza e dettano quello che sei per esempio anch'io in maniera mare ingenua penso che se un ragazzino di 15-16 anni come sono stato io, come ce ne sono tantissimi sceglie di suonare la chitarra, o sceglie di suonare la batteria, o sceglie di scrivere, di disegnare anche quello si può considerare come un gesto politico, come un gesto di ribellione, volendo ok, ma quali sono, se ce ne sono stati, scusami, di scrittori i tuoi preferiti? bene, ho tanti, io preferisco parlare di libri in sé, che non tanto di scrittori preferiti comunque di scrittori, quelli che mi ispirano di più, o comunque quelli che leggo più volentieri sono, beh, intanto Isabella Santacroce, che è nostra contemporanea e David Foster Wallace, Italo Calvino e Joseph Conrad, ne ho detti tanti ce ne ho detti quattro e mi fermo qui perché potrei dirne tantissimi ma i tuoi libri preferiti? C'è uno che comunque legge tanto? beh, io leggo ogni giorno, riesco a leggere almeno mezz'ora, un'ora in media al giorno ecco, quando ho tempo, la sera sicuramente, poi anche di giorno, appena ho un po' di tempo o scrivo o leggo, cioè quello ogni giorno leggo, ecco ho una biblioteca a casa sui 400 libri, di cui vado fiero, insomma, ecco, se si può dire ma i tuoi libri preferiti quali sono? non so se vuoi citare qualcuno beh, visto che ho detto David Foster Wallace, Infinite Jest che è un libro che non è tanto conosciuto, però secondo me è veramente ecco, dire un capolavoro è una parola un po' abusata però è un libro di 1200 oltre pagine, comprese le note che però è un libro fantastico, cioè che mi ha preso proprio e mi ha penso che abbia segnato anche un po' il mio modo di scrivere ecco, comunque ci sono tanti scrittori che nel momento in cui io scrivo so che mi sto parangolando a loro pur cercando comunque di, cercando appunto una voce mia di rimanere te stesso, di seguire il tuo percorso ma nella tua scrittura e soprattutto di questo libro qual è la parte che ti piace di più, insomma c'è un capitolo oppure c'è qualcosa nello specifico che a te piace di più rispetto al resto? beh, quando ho iniziato a scrivere il libro ce l'avevo già tutto in testa cioè a me, quando io scrivo i libri dopo ovvio che ci vogliono mesi per scrivere un libro però comunque la storia in linea di massima ce l'ho già tutta in testa per cui non saprei dirti se sono più legato a una parte che a un'altra ecco, il libro è composto di quattro capitoli è molto equilibrato più a intervallare questi capitoli ci sono delle parti di una lettera che Kira, il protagonista narratore scrive rivolgendosi a tutti i cittadini della terra per spiegare appunto come si vive in Europa a differenza di come invece si vive fuori dall'Europa e per cui penso che ecco in quelle parti lì in questa lettera che appunto è messa come intermezzi tra i vari capitoli per spezzare un po' la narrazione ecco, penso che lì ci sia proprio il mio pensiero comunque parte di quello che è il mio pensiero perché poi quella lettera è scritta proprio come un flusso di coscienza senza schemi e dunque lì mi rispecchio molto ogni capitolo è scritto in maniera diversa magari il primo è molto vicino a quella che è l'atmosfera di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola è un'atmosfera molto cupa è pieno di fango, di tenebre e dunque quella parte lì forse penso che sia molto efficiente è quella che preferisci, ok è molto incisiva incisiva ecco e in più il finale secondo me il finale è azzeccato che ovviamente non svelo esatto dovete leggervi il libro se volete conoscere a fondo il finale ci ascoltiamo un'altra canzone allora cosa ci ascoltiamo? allora questo è un gruppo qua di Marostica che purtroppo si è sciolto mi sembra l'anno scorso sono i Muleta che fanno un genere che loro definiscono punk tascabile e la canzone si chiama La Peste Bassano Generation sempre qui ragazzi da Bassano del Grappa vi ricordo che siamo qui con Alberto Alessi e stiamo parlando del suo libro gli ho chiesto se gentilmente vuole regalarmi un pezzo del suo libro nel senso di raccontarci a me e a tutti gli ascoltatori così adesso ci legge una parte del suo libro in basso agli inferi noi abitanti della nuova Europa noi che non abbiamo parenti ma solo fratelli ci sentiamo come pionieri sentiamo di aver dato il via a una fase di transizione tappa necessaria di un processo che sarà realizzato solamente quando tutto il mondo si sarà liberato dal male chiamato potere e autorità convinti che solo allora il nostro pianeta si sarà pulito da ogni brutalità da ogni schiavitù fino alla minima e più insignificante manifestazione di ingiustizia l'incubo che opprime i nostri sonni è il pensiero che la terra si avvicini troppo al sole e l'umanità si estingua senza che l'armonia della pace e la melodia della libertà risuonino ovunque e a quelli che vogliono zittire o deturpare queste gioiose note non possiamo che limitarci a dire vergognatevi e basta in che punto siamo senza dover raccontare tutto il libro per chi ovviamente sceglierà di leggere il tuo libro ma se vuoi raccontiamo un po' questo pezzo che hai appena letto sì come detto ho appena letto la parte finale della lettera che il protagonista scrive rivolgendosi a tutti i cittadini della terra per cercare di smuovere un po' le coscienze di risvegliare un po' gli animi diciamo e per cercare di imprimere un cambiamento in meglio in positivo per tutta l'umanità e comunque allargando il discorso anche a tutti gli esseri viventi ecco e sì questa diciamo che questa lettera serve appunto per spezzare un po' il ritmo della narrazione perché per tutto il resto del libro nei vari capitoli che si chiamano tra l'altro terra, aria, acqua, fuoco il mio romanzo potrebbe essere classificato come un romanzo di avventura di azione mentre in realtà poi magari leggendolo in maniera non superficiale ci si accorge che è tutta una chiave metaforica di fatto il percorso che questi personaggi compiono è qualcosa di un percorso interiore che ogni uomo dovrebbe compiere o comunque dovrebbe si trova costretto a compiere se vuole diciamo guadagnare la libertà in un mondo che di libertà ne concede poca o niente Qual è secondo te il consiglio che possiamo dare ai giovani che scelgono di scrivere un libro? Quali sono le qualità che tu hai riscontrato importanti per diventare scrittori? Sì grazie che mi hai detto che sono diventato scrittore però insomma sono ancora agli inizi e non mi va tanto di considerarmi tale ecco appunto io penso troppo umile per dare consigli il consiglio che do io ai giovani o ai giovanissimi è quello di di scrivere di suonare comunque di dedicare del tempo a se stessi e anche alla propria creatività ecco io quando vedo per esempio che nel campetto dove da piccolo giocavo a calcio adesso ci sono i cartelli col divieto di fare questo di fare quello divieto di giocare a pallone ecco lì capisco che c'è qualcosa che non ha funzionato e penso che appunto ascoltare anche la parte di sé quella più più appunto più ribelle più creativa più fantasiosa sia una necessità un qualcosa che dovrebbe essere concesso a tutti che tutti dovrebbero fare ecco per quanto riguarda i consigli tecnici della scrittura penso che ognuno ha i suoi segreti o comunque ognuno ha i suoi metodi per cui io potrei dire quelli che sono i miei per esempio io scrivo non riuscirei a scrivere a computer direttamente la prima stesura dei miei libri sono su su carta con preferibilmente la penna ecco e quando fuori è buio sento la luce del sole però queste cose valgono valgono per me ecco questa è la prima stesura poi ricopio computer poi leggo leggo tolgo cancello aggiungo rileggo ancora rileggere tante volte è utile e quando un giovane una persona comunque ha scritto il libro cioè ce l'ha tra le mani e dice ok adesso è il momento di cercare un editore di cercare un aiuto o qualcuno che magari possa correggerlo oppure possa dare anche il proprio parere fino ad arrivare ad avere insomma un libro con una casa editrice quali sono secondo te i passaggi che possiamo consigliare a chi a chi sa di fare questo percorso si beh intanto farlo leggere agli amici ecco questo è sempre utile avere un parere delle persone però c'è il di contro c'è che magari gli amici tendono a non essere sinceri al cento per cento bisogna proprio dirgli guarda se fa schifo se c'è qualcosa che non va dimmelo c'è quello bisogna bisogna specificarlo dopodiché bisogna stare molto attenti e mettersi l'animo in pace perché comunque è un il mondo dell'editoria è un mare con tanti pescecani nel senso che io mi sono accorto e lo sapevo già prima di cimentarmi nella ricerca di un editore ancora con il primo libro che sarebbe stato non tanto difficile però perché avrei incontrato delle persone che avrebbero voluto sfruttarmi al massimo e con con false loosing con cioè tu quando scrivi a una casa editrice senza esserti informato prima che questa non sia una casa editrice a pagamento può capitarti di ricevere una mail in cui ti lodano ti dicono guarda sei un genio hai scritto un capolavoro che venderà milioni di copie e vincerà il Nobel tra tre anni e questo lo fanno solo perché poi loro ti chiedono soldi per pubblicare che è una cosa folle è una cosa fuori da da ogni logica cioè chiedere da non scherzo dai mille euro in su a un ragazzo magari a volte anche giovane che ha scritto un libro perché per dopo fare cosa per dopo fare niente perché loro ti promettono la pubblicità ti promettono che ti propongono tre quattro copertine disegni di copertina poi tu scegli quella che ti va e poi non è vero niente poi loro stampano giusto le copie che mandano a te che magari ti hanno obbligato a comprare per contratto e poi la cosa finisce là e dunque ti ritrovi con uno scatolone di cento copie a casa e che non sai cosa farne se non darle via a meno che tu non conosci migliaia di persone o a meno che tu non abbia una libreria ecco però comunque il mio consiglio è fare la guerra all'editoria a pagamento ecco questa è proprio una piaga di questo mondo ed è tra l'altro un argomento che sviscererò bene nel mio prossimo libro che uscirà non so tra qualche mese forse quindi diciamo bisogna stare attenti quando nel momento in cui si entra dentro nelle case editrici bisogna un attimo stare attenti a chi ci si rivolge e quali possono essere le risposte insomma si perché a volte magari ti capita di relazionarti con una persona che ti sembra sincera che sembra che voglia puntare su di te in realtà poi c'è l'inganno comunque l'inganno si scopre subito perché appena ti contattano loro ti mandano subito il contratto da firmare in questo contratto ovviamente alla fine in una nota ci scrivono boh è previsto l'acquisto obbligato di tot copie scommare anche scontate però la cifra comunque viene esorbitante o comunque ti chiedono di coprire i costi loro dicono parte dei costi in realtà tu copri tutti i costi della pubblicazione insomma mi sembra una fregatura ecco mi ricordo una volta ho raccontato a mia mamma questa cosa mia mamma che comunque ha la sua età e non conosce tanto questo ambiente e anche lei ha detto sì vabbè ma nessuno ci casca su questa cosa in realtà purtroppo si tende a proprio letteralmente a farsi fregare perché a volte magari vedere in concreto la possibilità di pubblicare il libro ti offusca quella che è poi la realtà delle cose ecco per cui io dico di avere pazienza perché se se si è scritto un buon libro prima o dopo qualcuno che lo pubblica lo trovi e dunque non avere fretta ecco perché e comunque adesso con internet è anche facile informarsi su quali sono magari le agenzie letterarie o invece le case editrici di quelle serie e già fare una prima distinzione e dopodiché sì si invia il manoscritto magari alle case editrici che pubblicano un genere a fine col manoscritto che si propone e poi dobbiamo sperare di poi serve un pizzico di fortuna perché uno può anche aver scritto un bel libro però se non trova la persona che crede che crede in lui che lo spinge nella maniera giusta e lì si rischia appunto di di restare diciamo nell'anonimato tra virgolette perché io sono sicuro che oltre a me vabbè ci sono tantissimi libri bellissimi oltre al mio ci sono tanti altri libri bellissimi che però non hanno il giusto risalto grazie Alberto per essere venuto qui con noi diamo delle informazioni agli ascoltatori se vogliono acquistare il tuo libro sapere qualcosa di più di te conoscerti nei social network mi trovate su facebook Alberto Alessi ho la pagina che si chiama novelle di Alberto Alessi e il libro si può acquistare in qualsiasi libreria in caso penso che nella zona forse c'è oppure basta ordinarlo nel giro di una settimana o due si trova oppure basta andare nel sito dell'editore che è edizionimontag www.edizionimontag.com e lì c'è il catalogo e comunque si trova su IBS si trova su penso su Amazon su qualsiasi piattaforma ok lanciamo l'ultima canzone sempre scelta da te caro Alberto si sono i Baustelle con Cuore di Tenebra una canzone di 10-15 anni fa dall'album La Malavita e con questo saluto tutti e ringrazio Bassano Generation per avermi dato spazio grazie e ciao